Due piccoli sorrisi in un mare di guai. I recuperi di Mesba e Quadrado rassicurano in parte di Francesco, in apprezzione per i tanti calciatori acciaccati ed in forze per la gara di sabato con il Napoli di Mazzarri. Due opzioni importanti, vista la ristretta cerchia a disposizione del tecnico pescarese. L'assenza contemporanea di calciatori come Carrozzieri, Giacomazzi e Di Michele ha privato il legge di personalità, probabilmente nel momento in cui ce n'era più bisogno. I giallorossi hanno toccato il fondo e non solo in senso figurato. L'ultimo posto in classifica è la condensazione di tutti i pensieri e numeri negativi che galleggiano in orbita Lecce. Ultimo posto di respiro continentale se si confronta la classifica di Serie A con quella dei quattro maggiori campionati europei. Una comparazione che fa risultare Lecce al penultimo posto assoluto. Solo il Blackburn in Premier League ha fatto peggio con sette punti. Il Liga chiude il Santander con nove, in Germania l'Augsburg ne ha undici, mentre in Francia la Giaccio è a pari merito con Lecce. Un dato negativo, soprattutto se si pensa che di questi cinque campionati quella salentina è in assoluto l'unica squadra a non aver ancora vinto una gara casalinga. Numeri che si agganciano ad altri numeri, come lo zero alla voce gol fatti dagli attaccanti e i quattro punti in meno rispetto ad una stagione fa. Il Lecce attraversava ugualmente un periodo difficile dopo il 4-0 di Udine, ma in classifica era comunque a quota 12. Tra infortuni, squalifiche e scelte tecniche in una sola occasione su 12, Di Francesco ha confermato la formazione. Così si spiega la mancanza di continuità. L'attualità proietta però il Lecce al San Paolo, dove esattamente un anno fa la squadra di Decagno incassò la beffa con il gol allo scadere di Edinson Cavani. L'uruguayano ha saltato la Juventus, ma sabato dovrebbe tornare a disposizione di Mazzarri. Farsi suggestionare a questo punto diventa inutile. Davanti a queste premesse e al calendario le speranze sembrano ridotte all'omicino, quindi meglio non pensarci e tirare fuori lo spirito guerriero.